Presentati oggi i Gluten Free Days, una due giorni di gusto e benessere che si terrà a Sortino sabato 16 e domenica 17 settembre. La manifestazione, divenuta un punto di riferimento in Sicilia per il settore alimentare legato ai cilieci, ospita stand di aziende specializzate nella produzione e lavorazione di prodotti per cilieci, degustazioni ed un ricco programma di attività e di intrattenimento. Abbiamo due giorni sabato e domenica dedicati alla promozione delle eccellenze enogastronomiche siciliane con tantissime aziende artigiane che arriveranno per promuovere e per presentare i propri prodotti gluten free, ma non soltanto, quindi un paniere agroalimentare molto ricco, un programma di intrattenimento anche musicale per le sere del sabato e della domenica, un programma ricco di show cooking e di laboratori che si completeranno con quello che sono azioni di turismo esperenziale. Avremo un trenino degli Iblei che girerà le strade più belle di Sortino, avremo un percorso sul patrimonio unesco della Valle dell'Anapo con visita guidata per la domenica, avremo ancora un giro delle bellezze architettoniche del comune di Sortino guidato dall'architetto Gian Siracusa e poi ancora con test fotografici e come dicevo prima show cooking e laboratori, proprio per una festa che sia dedicata sicuramente al mondo senza glutine, ma anche a chi in qualche modo può essere vicino a questo mondo e può venirsi a divertire in queste due giorni di intrattenimento, di eccellenze enogastronomiche e di turismo esperenziale. CNA tra gli organizzatori dell'evento, a fianco dei ristoratori e comunque dei produttori per sensibilizzare anche sulla questione celiachia. I nostri ristoratori negli anni, visto che siamo alla quinta edizione di questa manifestazione, siamo riusciti a diffondere insieme all'ASP la cultura, la formazione e l'informazione per accogliere al meglio e in sicurezza chi deve mangiare senza glutine. Questo consente ai nostri operatori, quindi ai ristoratori del nostro territorio, di poter ampliare la loro offerta e accogliere ancora un target maggiore di pubblico.